Eccoci qui, oggi voglio parlarvi di un argomento decisamente interessante e assolutamente attuale ovvero il fotovoltaico ma non il classico impianto come lo si intende solitamente bensì un'alternativa molto più pratica e meno costosa ovvero il fotovoltaico da appartamento perfetto per tutti coloro che non possono avere accesso a un impianto che definiamo classico per questioni logistiche, economiche oppure anche burocratiche ma non perdiamoci in altri chiacchiere, vediamo meglio di cosa si tratta e scopriamo soprattutto una possibile soluzione capendo poi quanto effettivamente si risparmia le caratteristiche principali si identificano in modo piuttosto chiaro già dal nome parliamo di pannelli relativamente piccoli che si possono appendere alla ringhiera del proprio balcone oppure fissare al muro esterno del proprio appartamento o ancora appoggiare in terrazza e giardino se si ha uno spazio che si può dedicare a questo tipo di utilizzo a livello di installazione non serve fare quasi niente basta collegare l'impianto a una presa elettrica, dedicata ovviamente, previo controllo e a livello normativo in molti casi è sufficiente scaricare un modulo, compilarlo e inviarlo al distributore locale detto e fatto Enel X ha da qualche anno introdotto proprio un prodotto di questo tipo si chiama Enel X Sun Plug & Play per essere precisi e costa intorno ai 540€ si può arrivare anche a un paio di centinaio di euro in più in base al tipo di supporto che si può selezionare in fase d'acquisto ma il pannello rimane lo stesso ovviamente non potevamo parlarvi di tutto ciò senza prima provarlo di persone quindi abbiamo chiesto a Enel X di fornirci uno di questi kit per poter testare sul campo il suo funzionamento e le eventuali difficoltà di installazione diciamo che da questo punto di vista Enel X ha fatto sicuramente un buon lavoro il kit arriva a casa completo di tutto il necessario per poter entrare subito in funzione dentro al cartone che vi verrà recapitato dal corriere troverete quindi il pannello da circa 1 metro per 1 metro e 70 i sistemi di fissaggio che si sono scelti il piccolo inverter che trasforma la corrente continua in corrente alternata e il cavo per il collegamento a una presa elettrica dedicata l'impianto di Enel X ha un magneto termico integrato che è una caratteristica importante e assente in molti prodotti della concorrenza è in grado di dare una protezione fondamentale in più le uniche accortezze di cui tenere conto per l'installazione di questo kit sono quindi due la prima riguarda l'ingombro e il peso del pannello per cui non è fondamentale ma è altamente consigliato essere in due persone durante le operazioni di trasporto e di montaggio io vi dico sono riuscito da solo a trasportare il pannello fino al terrazzo ma per tutte le operazioni seguenti avere un secondo paio di mani a disposizione è un vantaggio da non sottovalutare assolutamente soprattutto per mettere in posizione il pannello una volta fissati i sostegni il secondo accorgimento è quello legato alla presa elettrica dedicata la normativa vuole infatti che il kit venga attaccato a una presa collegata direttamente al quadro elettrico senza altre diramazioni e che questa sia in qualche modo chiaramente segnalata basta anche un'etichetta con scritto presa fotovoltaico da balcone se non ne avete una predisposta potete farla installare dal vostro elettricista di fiducia con un costo relativamente contenuto nella maggior parte dei casi infatti si riesce a passare il cavo direttamente nelle calanine già presenti nei muri e si potrà così raggiungere la posizione desidrata senza rompere appunto i muri oppure senza posare delle canaline esterne che sono un pochino antiestetiche anche se a livello di funzionamento non è un requisito fondamentale la normativa prevede il ricorso a una presa dedicata per questioni di sicurezza attenetevi quindi a quanto richiesto per evitare spiacevoli inconvenienti per il resto l'installazione è davvero molto semplice la parte più complessa secondo me è il fissaggio al balcone o al terrazzo ma una volta compiuta questa operazione sarà sufficiente collegare i due cavi che trovate sul retro del pannello all'inverter e quindi questo stesso al piccolo contatore con magneto termico che viene fornito in bundle da quest'ultimo parte poi un cavo con una presa asciuco che è quella che va effettivamente collegata poi al nostro impianto di casa parlando invece di incartamenti e burocrazie la procedura per mettere in regola un impianto di questo tipo è davvero molto semplice esistono diverse procedure a seconda della potenza dell'impianto essendo questo impianto, quello fornito da Enel X nel kit rientrante nella categoria di potenza più bassa l'iter da seguire è quello detto super semplificato dedicato a impianti fino a 350 watt a questo punto basta scaricare il modulo chiamato comunicazione unica con questa certificazione sostanzialmente si dichiara di produrre una parte dell'energia consumata in maniera autonoma e di cedere eventuali eccedenze in maniera gratuita perché tutto va da buon fine è molto importante essere dotati di un contatore bidirezionale come ormai sono quasi tutti quelli installati se non avete un contatore bidirezionale rischiate di dover pagare l'energia che producete in più anziché cederla gratuitamente bene, abbiamo parlato di come si installa il kit e di quali sono i passaggi burocratici necessari per la messa a norma dell'impianto ma veniamo un attimo al sodo quanto si risparmia con questo kit? stando a quanto espressamente dichiarato da Enel X in condizioni ottimali di meteo dovremmo poter risparmiare fino a circa il 20% sulla bolletta elettrica sarà vero? vediamolo subito secondo la stessa azienda con un'installazione ottimale a livello di esposizione e inclinazione in una zona abbastanza soleggiata si può raggiungere un'efficienza del 95% e una produzione di circa 470 kWh all'anno ovvero 39 kWh al mese la nostra prova sul campo effettuata in provincia di Como su un terrazzo esposto al sole per circa 12 ore al giorno tra i mesi di agosto e settembre ha sostanzialmente confermato le stime di Enel X anzi abbiamo anche migliorato leggermente le stime previste la produzione verificata permetterebbe infatti di toccare i 40 kWh al mese che basandosi sui consumi di un bilocale abitato da un nucleo familiare di due persone ovvero una media di 170 kWh al mese 2000 kWh all'anno porta a un risparmio complessivo pari a circa il 23% sul consumo energetico medio mensile e quindi in quanto tempo si rientra nell'investimento e si comincia effettivamente a risparmiare sulla bolletta di casa? allora abbiamo calcolato anche questo tenendo ovviamente come riferimento i 40 kWh mensili che abbiamo verificato noi quindi è bene tenere a mente che si tratta di stime ottimistiche non tutto l'anno abbiamo il sole che ci permette di ottenere questa produzione il calcolo non è per nulla semplice perché entrano in gioco moltissimi fattori che incidono sui costi della bolletta dalle spese di trasporto alla tassazione in pratica davvero è molto variabile a seconda delle diverse situazioni quindi tenendo conto di tutte queste variabili abbiamo calcolato il possibile risparmio in due diverse situazioni uno scenario A con un costo medio per kWh di 30 centesimi di euro e uno scenario B con lo stesso costo portato invece a 25 centesimi tutto al netto dell'IVA e delle imposte mantenendo come riferimento il bilocale da 170 kWh avremo quindi un risparmio mensile di 12 euro per lo scenario A e 10 euro per lo scenario B che si traducono rispettivamente in 144 e 120 euro di risparmio annuo il costo del kit in questione come detto sopra è di circa 540 euro che possono dimezzarsi grazie agli incentivi statali scendendo fino a 270 euro circa una cifra che secondo le nostre estime viene quindi riassorbita in un anno e 11 mesi per lo scenario A e in due anni e tre mesi per lo scenario B da qui in avanti sarà tutto risparmio in bolletta prima di chiudere però è doveroso dire anche che Enel X garantisce un mantenimento di almeno l'80% di efficienza dell'impianto anche dopo 25 anni offre una garanzia di 12 anni sul pannello e di 10 anni sul resto degli elementi che compongono il kit in conclusione quindi visto quanto abbiamo appreso fin qui è davvero difficile sconsigliare Enel X Sun Plug & Play a patto naturalmente che il proprio appartamento o alloggio ne consenta l'installazione in maniera produttiva i requisiti sono pochi, la burocrazia al minimo, l'investimento iniziale è modesto e il risparmio che inizia dopo un periodo che va dai 2 ai 3 anni è concreto grazie anche agli incentivi statali che ne dimezzano il costo e voi cosa ne pensate di questo tipo di soluzione? avete pensato magari di installarlo anche sul vostro balcone, terrazzo oppure sul vostro giardino? fatecelo sapere qui sotto nei commenti ovviamente lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifiche ciao